Leonardo! Leonardo! Per favore, vienimi a dare una mano, dobbiamo sistemare l'armadio! Tua madre ha detto che dobbiamo sistemare il tuo armadio, per favore, vieni! Non risponde! Mi tocca fare tutto a me in questa casa, va bene! Ah, ciao ragazzi! Adesso sistemiamo l'armadio di Leo, lo so che siete curiosi! Vediamo! Oh! Dunque, direi che tutto sommato è a posto, però controlliamo. Allora, qui abbiamo delle camicie, camicie, qui abbiamo un giubbotto, ed è a posto. Dunque, qui ci sono dei pantaloni, direi, da sistemare. Qui dietro abbiamo un vestito di carnevale, ma carnevale manca ancora un po' tanto. Qui che cos'è? Oh! Una maglietta di Jurassic World, un'altra maglietta di Jurassic World, un costume di carnevale, va bene, li lasciamo qua. Qui abbiamo dei maglioni, direi che sono a posto. Qui ci sono i pantaloni, e qui ci sono altri pantaloni per l'inverno, delle scarpe, e qui dentro, meglio non aprire. Direi che è a posto, facciamo che è a posto. Allora, oh, il suo libro, vedo che legge, bravo ragazzo. Cappellini, Jurassic World, va, 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 va. Ma quanti cappellini ha questo ragazzo? Ma quante teste? Ne ha solo una! Qui abbiamo delle lenzuola per il letto. Ma voi il letto, lo fate voi o lo fa la vostra mamma? L'aiutate o non la aiutate? Dunque, i cassetti. Vediamo. Oh, ma questo ragazzo è proprio sistemato. Ma che cosa c'è da sistemare in questo armadio? Io vedo tutto a posto, queste mamme vogliono sempre sistemare, sistemare. Poi alla fine è tutto a posto. Allora, delle magliette, delle t-shirt, t-shirt. Oh, chi è questo qua? Va, 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 va bene. Andiamo avanti. Oh, vediamo allora. Qui ci sono dei calzini estivi. C'è ancora caldo qui da noi. Qui ci sono delle cuffiette per la piscina. I costumi per la piscina. Questi dovrebbero essere dei pigiami. Ok. Oh, delle mutande rosse. Va bene. Andiamo avanti. Dunque, delle canotte. Delle t-shirt bianche. Ancora dinosauri. Pigiami, pigiami. Va bene, qua è a posto. Ma questo armadio è tutto sistemato. Io non capisco, va bene. Andiamo avanti. Oh, calzini per l'inverno. Ah, chi sei tu? Un dinosauro? Ma in questa casa ci sono solo dinosauri. Stai buono. Dunque, qui ci sono dei pigiami. Va bene, va bene. Direi che abbiamo sistemato tutto. Tanto quella neanche se ne accorge. Io dico che ho sistemato. Ma qui è tutto sistemato. Ottimo lavoro. Bene. Bene, bene. Dunque, ragazzi, che ne pensate? Voi pensate che è sistemato? Io direi di sì, dai, abbastanza. E voi? Ce l'avete sistemato l'armadio? Per oggi direi che ho lavorato abbastanza. Bene, bene. Leonardo, ti ho sistemato l'armadio. Ciao, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Leonardo, ti con Mauro e Tricci ci danno tanta allegria, c'è la simpatia e i vignodi, Leonardo, ti. Ciao.